Dopo il deludente incontro, il Regione è arrivato come una tegola in testa a ridosso delle vacanze di Natale, che ha detto ai lavoratori di vertenza Frosinate che non ci sono i fondi per prolungare gli ammortizzatori sociali. Questi ultimi stanno occupando Palazzo Iacobucci. In merito è intervenuto il presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, tuonando «Bassare in palli servono soluzioni. Siamo di fronte ad una situazione di emergenza assoluta», ha detto Pompeo, per la quale bisogna solamente mettere in campo soluzioni e smetterla con il rimpallo delle responsabilità. Mancano pochi giorni al termine ultimo per definire i fondi necessari a coprire la platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali, sia per completare il 2018 che per agganciarsi al 2019. Fate presto. Stiamo parlando di circa 1600 persone, delle relative famiglie, alle quali non interessa chi e come deve intervenire, interessa solo che si faccia. Il presidente della provincia ha poi affermato «Si tratta di una problematica che non ha colore politico, ma riguarda la dignità delle persone. La provincia ha fatto tutto il possibile in passato e continua a farlo oggi, senza fare sconti a nessuno. Negli scorsi anni, attraverso un gioco di squadra tra le varie istituzioni e con il contributo essenziale dei sindacati, siamo riusciti sempre ad arrivare all'obiettivo. Oggi, purtroppo, siamo ancora fermi. Certo, tenendo conto dell'ammontare delle risorse necessarie per il 2018 circa un milione di euro, non sarebbe troppo complicato per il governo, in particolare per il Ministero dello Sviluppo Economico, sbloccare la situazione. Per cui faccio appello al ministro Di Maio, anche per il tramite dei suoi rappresentanti sul territorio, affinché si ascoltino le nostre richieste e si possa risolvere la questione». Non solo questo, voglio dire al ministro, aggiunge Pompeo. Purtroppo, c'è un'altra situazione potenzialmente esplosiva che Di Maio deve considerare. I riflessi dei provvedimenti governativi sul futuro della produzione FCA in Italia, dunque anche dello stabilimento di Piedimonte San Germano. I segnali che vengono dal management della multinazionale rispetto a quanto prospettato dal governo, sono preoccupanti, perciò è necessario riflettere e forse fare un passo indietro. Il lavoro è un valore e un diritto che non può essere messo a rischio. Mi auguro che il ministro risponda a queste richieste, non dimenticando che abbiamo anche inviato una nota per essere parte attiva della stesura del bando dell'Iriba di Praterica. Ad oggi ancora non abbiamo risposte.